Ferito dalla propria autora e in gravi condizioni all'ospedale. L'incredibile incidente è avvenuto giovedì mattina a Padova in Viale della Pace, pochi passi dalla fire del tribunale. Un'automobilista è stato investito dalla propria vettura dopo essere sceso, averla paccheggiata e non aver inserito il freno a mano. L'uomo, dopo essersi fermato in un tratto di strada in pendenza, è sceso dalla propria utilitaria ed è stato investito. L'automobile si è poi scontrata con un'altra vettura di passaggio che ne ha fortunatamente bloccato il movimento. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 insieme ai vigili del fuoco. I pompieri hanno sollevato l'auto con gli appositi cuscini pneumatici, estraendo l'uomo. Il malcapitato è stato stabilizzato e trasferito in pronto soccorso.